La scuola è iniziata nel 1979 quando a Borgo Valsugana si è insediata un'acciaieria. Per quanto riguarda invece le discariche, lì si stanno facendo delle analisi, c'è ancora un'inchiesta in corso da parte della Procura e noi ci ostichiamo che effettivamente venga fatta chiarezza su questo sistema qua. Ricordiamo che le discariche sono tante, quelle prese in esame sono soltanto alcune, ma il sistema di quegli anni ci ha lasciato un patrimonio e un'eredità davvero molto pesante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.